Raccontare la quotidianità ma allo stesso tempo la storia della propria città attraverso una sezione espositiva che intende offrire al pubblico una seducente panoramica del territorio di Marcianise in uno dei portoni storici di Via Santoro, sede dell'Associazione Eclettica. E questo è il principale obiettivo di Racconta la tua città, la mostra di foto e video organizzata dai giovani soci dell'Associazione Marcianisana da sempre attenta alle problematiche e alla valorizzazione del territorio e in programma giovedì 2 aprile alle ore 21 e 30 presso la sede dell'Eclettica in Via Santoro. Per l'occasione Marcianise si mostrerà attraverso le suggestive immagini di una selezione di scatti raffiguranti vedute scorci cittadini invitando grandi e piccini a scoprire la sua storia e le sue bellezze. Nel corso della serata la presentazione del video realizzato dal giovane regista casertano Luca Cuomo il racconto della sua forma urbana e quello della sua identità politica, sociale e culturale trovano così una sede privilegiata nel cuore di Marcianise nel luogo che ogni giorno ospita centinaia di giovani volenterosi e desiderosi di mettere in luce il viso pulito della propria città.